ciao sono elena benvenuti sul mio canale e benvenuti in questa nuova puntata delle recensioni random questa volta parliamo di un prodotto skin care di un prodotto skin care low cost in particolare di un detergente voglio parlarvi di questo detergente acqua alle rose alla vitamina c sono 200 ml di prodotto è questo gel lavante questo gel detergente davvero piacevole sulla pelle pulisce in profondità è da utilizzare andando a bagnare leggermente il viso metterne appunto due pump un pump insomma la quantità che voi volete sulle mani massaggiare e appunto il gel diventa un po schiumogeno diventa proprio questa schiumettina bianca ed è davvero piacevole da utilizzare tra l'altro contiene vitamina c derivata da estratti di rosa canina quindi sono due potenti antiossidanti ossia la vitamina c e appunto l'estratto di rosa canina e tra l'altro due estratti naturali vitamina c che è contenuta all'interno di questo gel è micellare quindi è racchiusa in queste micelle non la vanno appunto a far degradare in fretta sappiamo appunto che la vitamina c è un particolare eccipiente soprattutto è quel quell'eccipiente che ci dà luminosità che soprattutto in primavera ci aiuta ad avere una pelle più radiosa un pochino anche più in tendenza con la famigerata glassy skin questa pelle di vetro che sentiamo appunto nominare su tutti i social impazza appunto questa questa parola questa terminologia e come facciamo andare a ricreare la nostra glassy skin soprattutto prima di tutto prendendoci cura della nostra pelle attraverso la detersione e quale miglior prodotto in primavera e appunto adesso che ci avviciniamo all'estate appunto alla vitamina c e quale miglior prodotto di questo che soprattutto è un prodotto low cost lo trovate appunto in tutte le grandi catene come tigotà come acco e sapone insomma lo trovate sugli scaffali della grande distribuzione ad un prezzo piccolissimo ma per davvero un ottima resa assolutamente guardate un po' io sono già quasi arrivata al termine tra l'altro vi dura parecchio perché è un gel bello bello consistente e è davvero un piacere lavarsi il viso la mattina e anche la sera con questo gel è assolutamente molto molto delicato perché io lo utilizzo anche magari la mattina solo da solo e la sera magari in combo ad un altro detergente per fare la doppia detersione ma utilizzandolo anche sugli occhi non dà assolutamente nessun tipo di fastidio e credetemi ho l'occhio molto molto sensibile e questo prodotto assolutamente potete utilizzarlo con tranquillità appunto anche su tutta questa parte più delicata dermatologicamente testato e anche la parte che riguarda degli ingredienti è veramente buona direi inci pensando che nelle nei suoi primi ingredienti troviamo acqua sodio e glicerina e poi anche tanti estratti naturali qui vedete appunto tutto il particolare degli ingredienti e assolutamente è un prodotto che mi sento di consigliarvi mi chiedo perché se ne parli poco qui su youtube perché è davvero un gel lavante super super valido ed un piccolo piccolo prezzo direi che come secondo prodottino delle nostre recensioni random possiamo promuovere acqua alle rose e questo detergente con un voto direi 9 fatemi sapere se l'avete utilizzato se avete un detergente low cost da consigliarmi vi aspetto qua sotto nei commenti anche questa puntata delle recensioni random finisce qui però vi ricordo di iscrivervi attivare la campanella e lasciare un like se vi piace questa tipologia di video vi bacio e spero di rivedervi ciao